Hai paura sicuramente di schiarire i capelli perché temi di rovinarli e di non avere l'effetto desiderato e invece da noi la blonde experience è così. Per prima cosa partiamo da una consulenza dettagliata per decidere la miglior schiaritura ideale per i tuoi capelli. Per questa cliente abbiamo scelto balayage, una tecnica che ci consente di avere una sfumatura naturale nel pieno rispetto della salute dei capelli, donando luce ma anche un movimento molto naturale. Grazie alla scelta del binomio tra decoloranti progressivi e il protettivo che andiamo a mettere all'interno, i capelli anche durante il processo di schiaritura non si rovineranno minimamente. Per personalizzare il taglio abbiamo scelto tricotage, una tecnica che dona leggerezza e movimento senza sfilare minimamente i capelli e quindi preservandone la struttura. Ultimiamo poi lo styling con la piega twist, una piega a fone spazzola che serve a preservare sempre la struttura dei capelli donando una linea morbida ma soprattutto moderna. Ed ecco il risultato finale di queste schiariture. Nuova luce per questi capelli, nuovo movimento grazie al taglio ma soprattutto un'iconicità unica, una vera e propria blonde experience.